L'altro punto dei 100 giorni, noi vorremmo che la riforma della politica, il grande tema della riforma della politica, passasse il punto di non ritorno in questi primi 100 giorni, cioè che in questi primi 100 giorni si arrivasse a un punto delle riforme della politica, delle riforme costituzionali dal quale non si può più tornare indietro, riduzione del numero dei parlamentari, via il finanziamento pubblico dei partiti, una riforma che faccia nascere il senato delle autonomie.